Non solo i ristoratori, naturalmente tra le critiche piovute nei confronti dell'amministrazione comunale per le scelte adottate in occasione del concerto per la fine dell'anno, ci sono anche attacchi politici come quelli mossi dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Catello Lambiase, che accusa di inadeguatezza il sindaco Napoli e la sua giunta. Sprecare soldi pubblici è sempre esecrabile, ma farlo negli stessi giorni nei quali si certifica il dissesso del bilancio e si scaricano sulle future generazioni gli sprechi degli ultimi anni è davvero intollerabile, ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, che accusa il Comune di spendere una cifra esagerata mentre non si è capaci di utilizzare al meglio la ricaduta economica. Da un lato infatti il concerto dei Negro Amaro non sarà fruibile se non da pochi fortunati, visto il contingentamento di Piazza Mendola. Dall'altra saranno in difficoltà i gestori dei locali che saranno costretti a scegliere tra la privacy dei loro clienti ed una boccata di ossigeno in questo periodo di crisi. Facciamo un test per vedere chi possa entrare come a medicina, fuori dalle battute, secondo me è una cosa davvero scandalosa. Un momento in cui si chiede alla cittadinanza di pagare per i prossimi decenni un aumento dell'aliquota IRPEF per coprire gli sprechi delle vecchie amministrazioni e dell'attuale amministrazione si pensa bene di spendere 400 mila euro e non se ne avrà neanche una ricaduta in termini economici per la movita e sociali per la collettività. Insomma a questo punto valeva la pena visto che il numero era così ristretto di puntare su nomi meno costosi dei Negro Amaro. Per esempio la nuova compagnia di canto popolare non ho nulla contro di loro però a questo punto visto allora non possiamo scaricare cioè il sindaco e l'amministrazione e la giunta non può scaricare sulla questura sulla prefettura colpe che sono sue. Udinese e Salenitane è un precedente sappiamo che la questura giustamente è rigida sulla sicurezza allora a quel punto o si programma uno spazio più ampio oppure in modo molto semplice si fa un capodanno con un gruppo meno importante un buon padre di famiglia farebbe questo.